Musica Madonna raga ma gioco in una musichetta così che cazzo ti aspetti Ciao a tutti ragazzi questo frutto è JxMurri e a parto di questo nuovo video Oggi siamo su Super Seducer E' un gioco che mi è stato consigliato da un mio amico che saluto Tipo due giorni fa e speravo che nessuno lo portasse su Youtube Italia E fino ad ora che sto registrando ancora nessuno di grosso lo ha portato su Youtube Italia però Super Seducer è un gioco veramente assurdo dovrebbe essere una specie di simulatore di incontri Però in cui non è che giochi a un videogioco giochi a delle riprese di vita reale fatte proprio dallo sviluppatore Io direi di iniziare non so Ok grazie Eh penso di si Eh prego che l'ho comprato Ma che burro raga fighissimo Ok mettiamo i sottotitoli Praticamente cosa ci ha detto Loro si sono divertiti un sacco a svilupparlo E grazie per averlo comprato Prego E soprattutto niente divertiti e vediamo che cosa ne esce fuori Stai camminando e un ragazzo incrocia il tuo sguardo Puoi fermarla e chiacchierare con te Chiacchierare con te e fare in modo che voglio rivederti Raga la traduzione è fatta abbastanza casareggia Ehi attenzione con la cintura ermè lui cammina Fierissimo tra l'altro E poi c'è lei C'è un ragazza abbastanza tranquilla La d'occhiata Oh è già la prima scelta Approcciala in maniera frontale Vuol dire gli do una testata Pingi di essere cieco Fischio di ammirazione Ovvio è classico no Approcciala di fronte ma un po' spostato di lato Non so che vuol dire Cammina le affianco Ciao bella come va Mentre le cammini affianco Allora Ci sono tanti modi in cui potremmo approcciare questo gioco La maniera diciamo più bella secondo me È in maniera tipo stranissima Però voglio vedere che succede Fingendo di essere cieco Certo perché un cieco cammina così no Ma che significa No ragazza il gioco è la svolta Ok fingi di essere cieco Era ovvio fosse una cazzata Però volevo vedere che cosa facesse Cioè qua è troppo bello esplorare tutte le possibilità Allora facciamone un'altra cazzona Fischio di ammirazione Esatto Ti piacerebbe Non è per niente cortese La cosa bella è che la coscienza Cioè lui che ci parla dalla sua camera da letto È vestito tutti in ghingeri con gli occhialini Che sono ovviamente sintomatici dell'essere una persona apposta Direi approcciamola in maniera frontale Che è per tutto relativo Vediamo come l'approccia ripeto Ma perché le due ragazze Ok ma bene tutto Ma perché le due ragazze al lato Ma sto gioco è troppo bello Ragazzi è la svolta Cioè ragazzi Se questo video arriva a 20.000 mi piace Arriva il secondo episodio Ve lo giuro Allora adesso dobbiamo decidere cosa dire alla ragazza Ti ho vista e dovevo dirti che sei molto elegante Ehi non ti ho vista già a yoga Non frequentavamo la stessa unità E su università Ehi a un minuto Credo tu sia molto bella Mi piacerebbe scendere nelle due partiti È proprio Ma cosa Ovviamente è questa Vediamo che ci dice il nostro amico Cazzo Eh lo so zio Però mi sembrava una abbastanza sempliciotta Capito Ok quindi Caffè o pausa pranzo Prima di chiederle se posso toccargli la bagiana Hai un minuto Perfetto Ok quindi quello che sta succedendo È che noi Tramite i suoi consigli da super seducer Dovremmo capire poi come approcciare in real life una ragazza Sarebbe bello poi metterli in pratica queste cose Allora Ha detto niente domande Quindi la risposta A Yes Due fighe vuol dire che è giusta Ma che cazzo di piedi sono? Ma che conversazione troppo grigio raga È sembra di essere È una cosa cringissima Quello che opera ha assistito Quindi ok l'abbiamo fermata Però perché poi gli chiedi Cosa fai oggi? E lei Eh doveva mangiare gli scoiattoli Ah e che cosa gli hai da mangiare? Gli hot dog No le mandorle Ma che cazzo discorso è? Ma sono tutti i saggiati Qua abbiamo varie possibilità Falle delle domande in modo che lei parli per la maggior parte del tempo Che penso sia uno sfracassamento di coglioni Sei così bella Ti darebbe fastidio se ti baciassi proprio ora? Otto Inchinandosi per baciarla Sì non dimenticati la parentesi Para quasi esclusivamente tu Facciamole delle domande Facciamole delle domande Ah Leo pensavo che la risposta giusta fosse sempre la E invece no Ok però almeno ci siamo accertati di questo Lui effettivamente ce l'aveva detto Non fargli troppe domande perché Altrimenti le dà la possibilità di risponderti Quindi potrebbe essere in quella risposta negativa Ok che cazzo vuol dire? Comunque quella in basso a destra è tanta roba È tanta roba Comunque non la darei veramente mai ad uno così creepy Inventati una scusa per toglierti la camicia Anzi per toglierti la camicia E mostrare E mostrare Il tuo fisico Chiedile che tagli Ti starebbe Però porca troia Ma ancora giusta l'hai scritta finora Inizia a toccarla per eccitarla Chiedile che lavoro fa Perché sembra una persona creativa Direi che inizia a toccarla per eccitarla Se vuoi una denuncia per molestie sarebbe la scelta giusta Secondo me dovremmo scegliere la D Ma non sei simpatico per un cazzo Per ora giusta Per ora giusta Per ora giusta Ma in questo caso vuoi fare una guess E fare un'assumzione Che fa un po' più interessante E se vuoi una cosa per fare con la fashion o l'arte È sempre un compromesso per una moglie Perché si dice che ha un stile Dice che usi il tuo sedere per fare il modello E poi controlla il suo Allora facciamo questa Che mi sembra la più parabola di tutti Ci sta noiando regala più persa Sicuro Sì invece Sempre fare il paraculo ragazzi Sempre fare il paraculo E conoscendo il tizio la cosa che ha qui tiene particolarmente è la figa Quindi Per ora giusta E fare questo Se non ti piace il tuo lavoro Quindi sempre hai ragazze nella strada? Oh Questa è delicatissima ragazzi Di solito fermi ragazze per strada A dire il vero si Molto spesso Sbagliatissimo No mai Cazzata Non spesso però se mi piace qualcuno e sono single Perché no Solo se mi accorgo che mi vuoi Che vuoi Che vogliono davvero essere scopate Sì 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 Per fare il video Ok Allora direi Questa Perché è quello più giusto 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 Però che palle ragazzi che Mr. Cringy ci ci debba spiegare per forza ogni scelta È andata bene il cuore è blu basta Ragazzare il cazzo Questa raga questa è assurda Lei proprio gliene frega una minchia Lei almeno sorride Ascolta un minuto perché non ci beviamo un caffè Dalle il tuo numero Ascolta doverei piccoli amico Mi piacere di rivederti Direi questo Ci riproviamo ragazzi Anche se secondo me Speriamo non sia fake Speriamo non sia fake Eh dai va bene allora non rompere il cazzo Cioè il cuore è metà completato Però Risultato eccellente Dai scelte corrette 88% Ok ragazzi questo primo video è durato ben 22 minuti Quindi direi che possiamo concluderlo qua Sono solo 22 minuti di cringe puro Ma di magia Quindi ragazzi se volete un nuovo episodio su Super Seduce Se lasciate un bel mi piace Fatelo sapere qua sotto nei commenti Io credo che sia un gioco pazzesco Quindi raga Sarei veramente contento di portarmi un nuovo episodio Noi ci vediamo al prossimo video Wuuu Ciao 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 Ciao